Significa non avere padroni, la libertà è l'assenza di schiavitù e padroni si possono subire oppure si possono cercare perché magari vendi un po' di te stesso in cambio di vantaggi economici o di altro tipo. Quindi la libertà ha un costo e questo interroga la capacità di ciascuno di sopportarlo ma credo che ne valga sempre la pena.